Il modo fosse andata, adesso poi oggi vedremo che cosa succederà in giunta, poi dopo Sappino ci aiuterà a capire i numeri, quali sono, se escono, se rimangono in aula a votare, insomma è tutta una giornata nella quale conterà anche la presenza. Comunque Salvini è riuscito ad allontanare l'attenzione da ciò che diceva prima il professor Cassese, ovvero l'esistenza o meno di una ragione di Stato che giustificasse l'atto che lui aveva. Lui aveva deciso come ministro dell'interno, il punto è tutto lì, ma in questo modo, diciamo in questo polverone, si perde il fuoco della questione. E poi diventa, vogliono eliminarmi per via giudiziaria. A Napoli si dice facci bambuina.